Ecco fatto, Topolino è la magia del Natale. Ti mantengo io. Apro io. Ecco il disco, ecco qui, chiudo, ecco fatto. Ok, vediamo se funziona. Partiamo da qui. Adesso funziona, sta solo caricando. Esclusivamente in Disney, DVD e videocassetta, Winnie Pooh e tutti i suoi amici in una nuovissima avventura. Winnie Pooh in! Buon anno con Winnie Pooh, auguri per tutto quello che vuoi tu. Venite a dare un'occhiata all'evento di Natale per tutta la famiglia. Questo speciale lungometraggio è la tenera storia di un gruppo di vecchi amici che impareranno il valore dei buoni propositi. I propositi, sciocchino. Promettiamo di essere migliori nel nuovo anno. Condividete con la vostra famiglia lo spirito del Natale e del nuovo anno con le nuovissime canzoni di Natale. Unitevi alla celebrazione dell'amicizia. Noi faremo passare a tutti un buon Natale. Con Winnie Pooh in! Buon anno con Winnie Pooh, auguri per tutto quello che vuoi tu. Il Disney DVD e videocassetta. Compagnia! Adesso è bello da qui. Siete stati alla cena. Siete stati al ballo. Ora siate i nostri ospiti per celebrare l'uscita dell'edizione speciale di La Bella e la Bestia, un magico Natale. Avremo il più grande Natale che ci sia mai stato. Ed ora la storia incantata continua. Mentre Belle... Lei sta progettando il Natale. ...e i suoi meravigliosi amici. Il padrone ha proibito il Natale. Nessuno può proibire il Natale. Sì, che c'è il Natale. Portano la gioia di Natale al castello e scaldano il cuore a una bestia. E da parte di una ragazza. Con tutte le voci del classico. Splendido! Nuovi amici. Meravigliose canzoni. Storie su storie. E contenuti speciali inediti per il DVD. Oh la la! Questo adorabile classico natalizio della Bella e la Bestia è più magico che mai. È meravigliosa! Nessuna collezione completa senza l'edizione speciale della Bella e la Bestia, un magico Natale. Il Disney DVD e videocassetta. Solo per un periodo limitato. Coraggio! Cosa stiamo aspettando? Natale? Sì, fa. Mo' inizia questo film. Sì, fa. Mo' inizia questo film. Sì. Mo' inizia questo film. Mo' inizia questo film. Una volta all'anno c'è una notte di magia, quando incanto e stupore discendono su ogni via. Ogni casa si entie di gioia in questa notte benedetta. Ogni cuore si intenerisce e il silenzio aspetta. Le stanze sono tutte addobbate con ghirlande e festoni. La cappa è pronta con appesi calzessioni. Adesso stacco. La cappa è pronta con appesi calzessioni. La cappa è pronta con appesi calzessioni. La cappa è pronta con appesi calzisstタ devotioni. esta.